Un caluroso benvenuto a tutti gli avanti agli anime sportivi. Io sono Bito e come promesso la settimana scorsa, oggi con me interviamo insieme la partita tra la King e la Imperial. Una partita tanto attesa. Sì, perché il mister, qui ritratto al massimo della sua lucidità, è organizzata come premio, come ricompensa per la King, appunto, che ha sottostato a tutti i suoi insulsi e avulsi allenamenti. Come spingere dei rulli dal peso di due quintali, esercitarsi nel gioco scorretto caricando gli avversari e saltare la corda con dei pesi alle caviglie. E per la domanda alla quale tutti quanti noi ci siamo posti, ovvero ma questi allenamenti daranno i loro frutti, non ci resta che andare a commentare la seconda parte del ventunesimo commento buttato al pala al centro per Rudy, dopo la sigla. E sera. Dopo aver obbligato i ragazzi ad accettare di battersi contro la Imperial, il mister torna a... È arrivato giusto in tempo, signor Patterson. In realtà non lo sappiamo. L'anime non lo specifica se si trova in un albergo, in un B&B, in un bordello, potrebbe essere ovunque. Ma noi per comodità lo chiameremo Casa del Gattone d'Oro, dove... Sì, capisco. Ma non potremmo rimandare di qualche giorno. Di cosa saranno mai parlando il mister e la voce misteriosa? Avete quattro opzioni per indovinare. Prima opzione, se lui è un cornuto. Sì. Seconda opzione, del fisco. Capisco. Terza opzione, dell'inizio della sua dieta. Ma non potremmo rimandare di qualche giorno. Quarta opzione, della sua partenza immediata. Mi dispiace, signor Patterson, ma ho bisogno del suo aiuto immediatamente. Ovviamente la risposta corretta è la numero quattro, come è già ampiamente previsto nello scorso commento brutto. Il giorno seguente la partita sta per cominciare, le due squadre sono in campo e il tecnonista abusivo commenta. I giocatori dell'Imperial sono delle vere montagne di muscoli e al confronto ai nostri amici della King sembrano undici lanetti usciti da una favola. Descrizione che, sentata in pasto alla IA, vi darà questo risultato. Ready, fight! L'arbitro fischia il caccio di inizio. Poveri noi, la King è così accorta di soldi che non può nemmeno ingaggiare un arbitro vero. Cioè, hanno pagato un pantomimo che mi tasse un arbitro. Perché o è così, o io non mi spiego perché non mi abbia fatto il gesto di fischiare, ma non si sia sentito il fischio appunto. Un momento! Avete dimenticato di mettervi i pesi alle caviglie? Non ho capito, ma stai sabotando la tua stessa squadra. Cioè, l'ultima cosa che può fare la King contro quegli energumeni è utilizzare l'agilità, la velocità, laddove loro ce l'abbiano, questa. Ma comunque la velocità che si riduce se tu attacchi loro una palla al piede come dei detenuti. Con i pesi non riusciremo a correre. Silenzio, faccio giocare Baccia al posto tuo. Come ampiamente atteso. La prima azione della King è andata in fumo. Non credo che il mister sia molto contento. Io invece non credo che il mister sia molto sveglio. Nella scena successiva la King perde il controllo della palla. Questo è dovuto essenzialmente a due fattori. Il primo sono i pesi alle caviglie. Il secondo è il buffo modo con il quale i giocatori della Imperial corrono. Sembra che sto a fare il ballo di Topolino. La Imperial che è in possesso del pallone avanza pericolosamente verso la porta della King. A me sembra che si siano semplicemente abbracciati. Grande Imperial deve segnare. E io sarò l'autore del gol. E questo che cos'è? Cioè, io mi immaginavo di peggio. Hanno parlato di guerra, di carri armati. Ma questo è un carro amato. Si danno tutti quanti stretti stretti. Ecco il primo! L'Imperial segna il primo gol. E la King reagisce in questo modo. Voi dell'Imperial siete dei bisonti. Con del body shaming. Fate un gioco troppo violento. Meritereste l'espulsione. Piantala Ricky. Parli come una femminuccia. Prego tutti gli spettatori di scusarlo. È pur sempre un anime degli anni 80. E nel 2024 questa cosa non la si può più sentire. perché A. Anche i ragazzi piangono. E B. Riki ha fatto di tutto tranne che è pianucolare. Riki ha sfottuto l'Imperial. Voi dell'Imperial siete dei bisonti. Allora cosa aspettate, fifoni? Piantala di sfottere. Ma si è iniziato tu, Riki. Hai lasciato tu la prima pietra. La partita riprende e oscillando come pendoli i giocatori dell'Imperial avanzano. Fatti sotto, Ippopotamo! Ancora a sfotterli per le loro dimensioni. Cioè, basta il body shaming. Cioè, un po' di body positive. L'Imperial, che ormai ritiene il controllo della palla, avanza e non vuole solamente segnare un gol ma anche preparare delle confetture. Toglietevi di mezzo se non volete diventare una bella marmellata. Entriamo in azione. Luter, ma dove hai trovato tutto questo coraggio? Ormai, la trasformazione di Lutero è completa. Affrontando Butch è diventato invincibile e indomito. Obito caro, vi permetto di corregerti. Più che indomito, a me Lutero sembra che sia diventato un sacco da box. Sir, come ti ho già spiegato, è a causa di questi premessi che ti autoassegni che poi io cancello la rubrica Legione. E dopo le confetture, l'Imperial pensa al pranzo. Ecco il secondo! L'Imperial l'ha raddoppiato, ora sono guai! In realtà, da quest'immagine, sembra che l'Imperial l'abbia appena scorregiato. Quello stupido di Buddy sta facendo una figuraccia. Oh, ma prendetevi la con il mister. È lui che costringe la king a giocare con i pesi. Mica è colpa sua. Forse è meglio fargli togliere quei pesi dalle caviglie, non crede? Bravo Butch. Sì l'angio letto custode che fa ragionare il mister. Bravo. Stai zitto, i tuoi compagni devono imparare a soffrire. Ma dopo una risposta del genere, Butch, come fai a controllarti? Io ti ho dato un pugno in faccia al mister. Cioè quello, ovviamente, a parte che è pazzo, ma poi tu, Butch, sei il più forte della squadra, poi ti arrivi una lezione. La partita va sempre peggio. La Imperial, che gioca un football che sembra più quello americano che quello europeo, avanza e continua a segnare. Obito caro, espandi il tuo vocabolario. È la trentesima volta che dici avanzano. Usa altre parole. Eh, ma non è colpa mia, se l'unica cosa che fa Imperial è andare avanti, che cosa dovrei dire? Vabbè, allora al posto di avanzare potresti usare dei sinonimi, tipo... No, ti prego, è una domanda retorica. Non farmi nessun elenco. E a giudicata questa inquadratura, qualcuno dell'Imperial deve aver scritto sulla visita del cappello di Buddy, scemo chi legge, mandandolo su tutte le furie. In una manciata di secondi, la Imperial segna il quarto gol, spiazzando la King, letteralmente. La King prova disperatamente ad opporsi agli attacchi avversari. E mentre la King è in panchina a riposarsi, possiamo notare come uno dei gemelli abbia perso un occhio come Sir Daniel Fortescue. Gioco che, aperta parentesi, mi ha terrorizzato, si è traumatizzato quando ero piccolo. Siete ridicoli. C'è poi la solida ramanzina giapponese. Impegnatevi, frite, la forza di volontà. Insomma, il solito brodo, al quale però Buddy a bocca. Sentite ragazzi, il mister ha ragione, no? Ci siamo allenati per giorni e giorni, eh? Tre, ti sei allenato per tre giorni. Mi dici, che differenza fanno tre giorni di allenamento? Con la volontà e l'impegno tutto è possibile. Ma la finiamo, questa filosofia spicciola di chi si è laureato all'università della vita. Almeno spero. Ma come almeno spero? Sei allenatore. Devi essere convinto di quello che dici. Anche se sono a fesseria. Pensate che il campo sia pieno di fango e i pesi non ci daranno più fastidio. A Rudy deve aversi ricaduto la testa dal collo. Cioè, non me lo spiego. Deve essere succombuto alla folla del Kishini. Perché questa risposta alla immaginazione non ha davvero senso. Immaginate che stia piovendo e tutto sarà facilissimo. Non è che se io immagino di essere Thor la mia forza quadruplica. Fantastico. I ragazzi hanno reagito alla grande. Ti prego dimmi che scherzi. Rudy è impazzito e tutti gli altri è oppresso a lui. Nessuno pioggia. Caro autore di Palazzo Un Pio per Rudy, ma davvero non c'era nessun altro modo per far di vincere questa partita? Cioè, davvero devo redere a questa... La fantasia sarà la nostra forza. Buffonata. Forza Timothy! Ti devi sentire leggero anche se per terra è tutto bagnato. La King, con il suo gioco da... da matti da matti appena scappare dal manicomio, terrorizza i suoi avversari. Ma che sta dicendo? C'è un sole che spacca le piede. Una reazione normale finalmente. Temo di essere io quello matto. Sentendosi leggeri, la King avanza fino alla porta avversaria. A pochi metri dalla porta, Rudy tenta il tiro. Tirerò con tutta la forza che ho e la King rimonterà. Cosa hanno appena visto i miei occhi? La forza che ho e la King rimonterà. Rudy, con quale fisica ti hai dato la seconda spinta? Ma spiegacelo. Cioè, se tu me lo dici, noi vinciamo il Nobel. Noi vinciamo il Nobel per la fisica. Evviva! Rudy è riuscito a colpire il pallone! Neanche io me lo sarei mai aspettato. E dopo il fantascientifico gol di Rudy, il mister acconsente a rimuovere i pesi e la partita va liscia come l'olio. Anzi, c'è una scena molto carina dove si vince tutta la stupidità della tecnica del carro armato. Forza Timothy! Passala a Ricky! Bravo Ricky! Alla fine non bastava che un semplice passaggio per superare questa tecnica del carro armato. E mentre la King segna schiovere, il mister se ne va. Questa lettera è per voi. Che risposta è, Batch? E già qui devo andare, ma sappi che in questa lettera ho scritto tutte le cose più profonde che penso su di te. E? Mister! Dove sta andando? A giudicare la lettera di addio è ovvio che sta andando a prendere una guantiera piena di dolci per festeggiare la vittoria. Torni indietro, mister! Povero Batch sta facendo la figura del cane abbandonato. In teoria ci sarebbe da commentare la lettera del mister. Voglio ringraziarvi ragazzi. Di questa sua storia smielata, di lui che amava il calcio ma non ha potuto continuarlo. Ma in pratica tutta la lettera passa in secondo piano di fronte a questa scena incredibile, surreale. L'azione più becera di tutta la partita. Una cosa meta tra Rissa e Missia, tra la King e la Imperial. L'episodio si appresta a concludersi. Il mister segue le ormai di Berlusconi infrattendo le persone su una nave da crociera. In questo caso la nave è più rotta. Mentre i quadri della King riempiono di sassi le loro tasche e si tuffano a male nella speranza di suicidarsi. Prove perché senza il mister non vogliono più vivere. Ovviamente scherzavo, i ragazzi non sono morti tranquilli. Da notare in questa scena che Buddy è rimasto sulla banchina per evitare che Buddy si tuffasse. O ci sarebbe stato il pericolo di un maremoto che avrebbe distrutto, avrebbe fatto affondare la nave del mister. Vedremo prossimamente altre avventure della King qui su questo canale. E quindi cosa aspettate? Iscrivetevi ora a questo canale per non perdervi le prossime avventure. Avventure però che continueranno senza il mister. E questo è un grandissimo dispiacere per me perché lui ci ha legato davvero un sacco di scene no sense, un sacco di idiozie, minacciare gli studenti, sfotterli, essere bipolare. Quindi io in fondo dal mio cuore ho sperato che rimanesse in fondo perché davvero senza di lui la serie secondo me è noiosa. E te ne sorprendi anche? era ovvio che se ne sarebbe andato. Innanzitutto piccola parentesi sul fatto che i giapponesi quando devono partire via lontano lontano devono sempre farlo col tramonto indipendentemente da qualsiasi mezzo stiano prendendo partono tutti soltanto al tramonto. Ma poi scusa te l'avevo detto pure l'anime in realtà in italiano è stato fatto male hanno invertito l'ordine degli episodi finiva con quello scemo pure che poi lui se ne andava al tramonto. E in quelle puntate il mister mica c'era era ovvio che se ne sarebbe andato. Grazie per l'intervento Shiron ma il video è in chiusura. Sì dopo questa piccola interruzione ti rilascio riprendere il video. Ciao! come saprete già il video non finisce prima non ringrazio non ringrazio davvero di cuore tutte le persone che ci sostengono tutte le persone che sono iscritte che si sono abbonate che commentano che condividono che mettono mi piace ragazzi grazie a tutti quanti. Vi ricordo anche che la King è abbastanza attiva anche su Twitch dove streamiamo. Abbiamo un nostro merchandise potete comprare magliette tazze e molto altro a tema legione leonina e noi possiamo dare a voi un codice sconto con il quale comprare dei giochi a un prezzo più basso che può far sempre comodo. Io vi do appuntamento qui su YouTube per commentare i prossimi episodi a parlare al centro per Rudy il numero 22 vi raccomando non mancate ragazzi siamo vicinissimi alla fine. Era tutto ragazzi alla prossima ciao! Ciao!